Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ma non mi ricordo in quale canale o nel primo o nel secondo ah no in questo canale vi avevo fatto vedere per metà perchè avevo il telefono davanti alla mia faccia quindi un po' si vede ok guardate così sono io ok basta prendere la mia faccia e vabbò ragazzi questo era un vlog un video della mia vita un video così un vlog vuol dire video della mia idea che faccio vedere la mia vita un video normale un video fatto così non sapevo che fare non sapevo contenuti quindi un video così e sera ho giocato col cane e volevo informarmi di questa cosa io c'era un mio amico un mio amico che è anche al canale andatevi andate ad iscrivervi tutti al canale molletta 2472 che è il canale del mio migliore amico dove l'ho caricato due video dove mostrava la mia faccia dei video normali con me ho detto molte cose carine e ho 12 iscritti e grazie a tutte le 12 persone o bambini che si sono iscritti al mio canale grazie davvero e oggi volevo fare un unboxing ma mi è venuto in mente in questa sacca ragazzi è una cosa più pesante del mondo dato che mi piacciono tanto gli amici cucciolotti e bello si ho comprato delle cose degli amici cucciolotti tra poco arriva Pasqua ragazzi arriva Pasqua e mi mangio tutta la cioccolata l'intenzione di comprarmi tutti gli album cioè tutti gli album amici cucciolotti dal 2007 al 2021 che ho già alcuni ce l'ho e questo album dove su ebay ho comprato tre album degli amici cucciolotti quello del 2015 e 2000 oh non mi ricordo 2015 2013 e 2019 ok e 2013 eppure quello che assomiglia al 2019 19 di libro e niente voglio spacchettare cioè vedere non spacchettare perché mi ero confuso con le gommaglie fumetto il primo della saga del grande emore piccolo poi c'è anche il quarto della saga del grande emore piccolo ragazzi spiegatemi una cosa sui commenti qua era piccolino della stessa saga l'uno poi io ho avuto il quattro ed è già adulto cioè io non ho il due il due tre magari dice nel libro sono passati un bel po' di anni o magari così e forse da piccolo è arrivato grande perché se no non è una cosa seria cioè non è una cosa normale dove qua nelle piccole immagini ci sono scritte cose in giapponese perché giapponese il cartone tipo qua non c'è scritto niente ragazzi qua non c'è scritto niente vediamo qua eh boh buono vero tipo quasi vedete dove questo ce l'ho tutto spolpettizzato che significa l'ho tutti cacciato le pagine eh boh iniziamo se non mi sentite ragazzi è perché eh sono un po' rauco di voce ho quello del 2010 che è ridotto in maniere bruttissime guardate ragazzi ho usato troppo vabbè vedete uno di quelli più riempiti questo non ne ho manco una del 2018 perché voglio fare tutte le raccolte come vi ho detto all'interno è così qua magari no non lo so non so come si fa bene iscrivetemi sui commenti dato che è scritto anche il mio amico al canale iscrivetemi nei commenti tu amico perché non posso dire un nome perché è una cosa di privacy pure per il mio amico quello che vi ho detto prima è il mio migliore amico perché dato che è una cosa di privacy già mi ho fatto vedere metà della mia faccia e va bene come cosa poi i nomi non posso dirlo il nome del mio amico quindi vabbò però il mio migliore amico scrivimi come si mettono i link in descrizione che vi vorrei mettere in queste due cose i link del libro ah sì forse so come si fa ragazzi no scrivetemelo lo stesso non lo so 2014 questo ebbene sì dal 2014 ragazzi 05 30 31 vabbò ehi i minuti che scorrono io mi vorrei comprare una telecamera vabbò non lo so amici cucciotti 2011 io qua ancora 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 manco ero nato quindi hanno incominciato nel 2007 quando manco ero nato quindi proprio vecchissimo vabbè 2012 ok qua c'è solo una sharpie libri blu e niente poi 2020 uno di quelli più recenti dove è già bello pienino è già bello pienino ok questa sacca l'ho comprata cioè mi è arrivata da ebay cioè no da amazon volevo dire quando ho comprato il kit del bosco e mi è piaciuto perché per il kit si è rotto l'ultimo è quello di quest'anno 2021 copertina rigida dove è già un po' ammaccato qua vabbè questo pure questo è già un po' pieno giù sai che vuol dire giù ragazzi giù significa giù perché sotto i miei nonni ho scritto così giù boh non so il perché giù sotto guarda giù perché c'è una cosa bella pure giù dei nonni dove vado io giù qua sotto giù di laggine qua sotto non lo so multiuso poi qua perché il mio animale preferito è il panda la mia planta preferita è il cactus il mio gelato preferito è il ghiaccio e gli animali preferiti i miei sono i dinosauri il panda il delfino il gorilla tra questi vabbè il gioco 737 3638 vabbè così è e niente ciao a domani grazie a tutti